non credo allo specchietto retrovisore sto accompagnando i travel companions mentre la nome frecce dall'emozione non vi perdite i travel companions vi garantite che farete video? no non te lo garantiamo fina e allora? allora che? 1 2 2 perdita ferma questa macchina perdita ferma la macchina perdita mi sto scendendo male ragazzi è tempo di morire ferma la macchina e non mi piace aspettami finire la macchina scende si distrugge grande incidente io e te morti stiamo in paradiso che mangiano taralluccia e vino con una tarantella guarda là giù e finisce ma perdita ma perché dobbiamo morire perché taralluccia e vino perché la tarantella è uno stereotipo ma no è una cosa ritorica no taralluccia e vino e finisce così travel companions e basta un morto non si compra ma perché devi finire travel companions? hai finito travel companions e tu l'affan ancora travel companions e basta ma scusa noi ci troviamo domattina ad andare a lavorare? si cioè ci troviamo a tornare alla sedia? si e mattinate le camere e continuiamo travel companions? ma beh non abbiamo più quelle idee caprara ci disse che noi avevamo delle potenzialità però adesso dobbiamo mirare in alto quindi adesso noi dobbiamo puntare in alto dobbiamo vederli puntando in alto ma caccia di mattina perché abbiamo i guaglia ma non abbiamo il tempo materiale noi siamo un lavoratore non potremmo tenere a fare su un lavoratore quindi ci potevamo mettere travel companions e dedicarci a quel progetto del lungometraggio ti ricordi quello dove te facevamo i gangster i gangster? eh io e te eh ma che sta faccio? ahahahahah non ho fatto una taglia ti prego lasciami stare lo facciamo sempre in macchina e facciamo un lungometraggio io e te stiamo in macchina però facciamo un viaggio lungo fino a torino e in questo viaggio guardiamo di tante cose varie però sai un lungometraggio fatto bene tipo film un viaggio lungo direttorino non è troppo lungo e vabbè facciamo un pezzalotto un pezzalotto magari lo mettiamo su internet a pezzi eh lo spezziamo eh lo spezziamo e facciamo fide che però andiamo a lavorare che andiamo a lavorare? eh allora lo facciamo che andiamo a torino no non diciamo che andiamo a torino perché poi la gente diceva andiamo a lavorare generico eh qua mi piace tantissimo si dice ma proprio tanto 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 mi piace come lo chiamiamo? eh meravigli eh il compenus 3 eh no il 3 se ne aspetta abbiamo il compenus 3 originale di rompen travel compenus 4 siamo innovativi poi il treno svanca si trova basta stagione invece di fare la terza stagione basta stagione poche puntate ma buco mi piace eh? ti piace? mi piace tantissimo e tu voli continuare a fare travel compenus e tu li fai la tarantella senti in anno ah mi piace mi piace li ho visti si chiedevano per andare dove andare per dove dobbiamo andare ti dico mmm difficile dopo il volo un'occasione mi improvviso cicerone non credo allo specchietto retrovisore sto accompagnando i travel compenus mentre la nome frecce dalle emozioni non vi perdite i travel compenus non vi perdite le faccio vi 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 Grazie.